Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a voi amici nerdiani e benvenuti in questo nuovo fantastico video riguardante gli Oscar 2017 SIGLA In questo video non parleremo di singoli film anche perchè sono così tanti i film nominati agli Oscar ogni anno che per parlarne nei dettagli ci vorrebbe almeno un film a sé stante di 8 ore lungo praticamente quanto il documentario su O.J. Simpson ma oggi approfondiremo alcuni aspetti della cerimonia innanzitutto questa cerimonia è stata presentata da Jimmy Kimmel un presentatore americano noto per il suo show che si è dovuto misurare con uno spettacolo non difficile da condurre ma che è riuscito a farlo con una giusta comicità e uno stile tutto suo abbiamo visto tornare alcuni tormentoni del suo spettacolo come i tweet negativi riguardanti certi VIP, certi celebrity letti proprio da quelle celebrity oppure Matt Damon attore famoso per avere una finta inemicizia con Jimmy Kimmel ho anche l'idea di introdurre a sorpresa per tutti dei turisti alla notte degli Oscar questi Oscar sono stati fortemente messi in risalto dall'eco politica che avevano dato e che hanno dato nel mondo come sappiamo infatti tre persone tre addetti ai lavori di tre film non sono potuti essere presenti due perché bloccati uno dal ban di Trump perché è iraniano e l'altro perché è bloccato ai controlli ai controlli dell'immigrazione e un terzo perché era un giornalista perché aveva contribuito al girare un documentario in Iran che è stato catturato e decapitato dall'Isis quindi abbiamo una risonanza politica non solo per l'antitrampismo come qualcuno crede ma anche per la situazione medio orientale che viene raccontata in diversi film abbiamo il tema della migrazione del razzismo trattato in diversi film dell'omofobia trattato in Moonlight abbiamo il soggetto dei sogni di come questi siano importanti ma possono anche essere ingannevoli dolorosi da raggiungere stiamo parlando di La La Land i film che hanno dominato in questa cerimonia sono stati sicuramente La La Land e Moonlight passerà alla storia con una nota di ridicolo ma anche con qualcosa di epico l'errore è fatto da non da Walt and Beat in realtà quanto da organizzazione degli Oscar nella consegna del premio per il miglior film le uniche altre macchie di organizzazione in questa cerimonia è l'incredibile fretta che è stata messa ad alcuni premiati rispetto ad altri molti non sono riusciti neanche a ringraziare perché venivano coperti dall'orchestra che come si sa è una regola che forse non è scritta ma è molto più che nota quando un discorso si allunga troppo comincia a suonare perché dice una tempistica da rispettare quindi non è permesso a nessuno di monopolizzare il palco e ok questo va bene quando magari c'è una persona che si sta prendendo troppo spazio ma se ci sono tre persone e solo una ha ringraziato non vedo perché l'orchestra deve suonare per forza o perché tu devi addirittura mandare qualcuno sul palco che allontana il vincitore dal microfono è una bruttissima scena da vedere Questi orche sono stati divertenti ma anche malinconici al punto giusto abbiamo visto attori come Charlize Theron e Seth Roger presentare dei premi insieme agli attori che dicono essere stati le loro ispirazioni abbiamo visto quindi anche questa cosa poi capovolta eronicamente da Jimmy Kimmel appunto parlando però di Matt Damon abbiamo potuto vedere anche il bellissimo angolo in Memoriam dove si ricordano tutti gli attori scomparsi nell'ultimo anno e che è una parte fondamentale di tutte le cerimonie degli Oscar abbiamo potuto sentire anche dei discorsi di ringraziamento molto sentiti abbiamo potuto vedere anche delle scene che sono strane ma che fanno parte di qualsiasi premio a parte quella dell'errore di Busta di La La Land che capita, cioè è capitato a Messo Universo e ci hanno fatto 24.000 meme su internet è successo anche che non ha vinto come miglior attore protagonista perché è così sorprendente? ebbene, tra i tanti riti diciamo così non ufficiali c'è chi vince il premio Oscar come miglior attore protagonista l'attore che ha vinto anche il premio per i GGA Awards ovvero i premi dati dall'agile degli attori e in quest'anno appunto l'aveva vinto Denzel Washington ma all'applicazione degli Oscar il vincitore del premio come miglior attore protagonista è stato Casey Affleck per Manchester by the Sea ancora Moonlight vince il premio Oscar come miglior film avendo perso nella stessa categoria in tutti gli altri premi è la prima volta che succede è stata una cerimonia degli Oscar unica nel suo genere sotto molti punti di vista abbiamo visto un Hollywood che non si arrende al potere più forte continua a combattere a suo modo le scelte della presidenza Trump a scherzare, a ridicolizzarle e abbiamo visto anche una determinata predisposizione a dei discorsi di vincitori che sottolineavano il loro essere a sfavore del razzismo della xenofobia e molti pensano che queste cose abbiano influenzato anche nella premiazione dei film ma oggettivamente questa non è una cosa che è successa basta vedere i premi che gli altri film hanno vinto Zootropolis ha vinto come miglior film d'animazione non solo perché parlava di temi importanti come il razzismo, la paura, la xenofobia e tante altre ma perché da quando era uscito aveva colpito per la sua profondità Oceania non era stato capace di fare lo stesso Kubo era stato creduto come possibile vincitore perché aveva vinto degli altri premi ma Zootropolis è il film che ha fatto più colpo che è riuscito a, come film d'animazione, a creare più risonanza ancora abbiamo Piper che vince come miglior corto Piper era il corto andato dalla Pixar andato sullo schermo prima di Alla ricerca di Dori ed è un corto bellissimo abbiamo avuto dei premi per la battaglia di Axon Ridge ma premi per il montaggio non abbiamo avuto altri premi per questo film ma alcuni credono che questa pellicola segni il ritorno di Mel Gibson nella Hollywood che conta come regista, come sceneggiatore, come attore vedremo se sarà così ma questa volta c'è stato un grande rilassamento sul red carpet dove ci sono state diverse interviste non soffermarsi particolari sui vari ospiti con varie interviste agli attori candidati anche indifferita come le interviste sul questo o quello che sono state trasmesse a intervalli e invece la cerimonia effettiva ha avuto pochi momenti c'è stata l'apertura di Jimmy Kimmel che come al solito, come tutte le aperture si è preso 5 minuti almeno per impostare la sua presentazione per impostare il suo stile e lo ha fatto assolutamente con classe Meryl Streep attrice non premiata secondo la definizione ufficiale del termine ma assolutamente premiata da Hollywood come comunità come insieme di artisti che gli ha dedicato una standing ovation le ha manifestato tutto il suo rispetto una Meryl Streep da record ormai perché ha 20 nomination all'Oscar come attrice abbiamo visto degli attori molto più alla mano di quando ci saremmo aspettati appunto la scena in cui entrano gli estranei delle persone normali non appartenenti al mondo di Hollywood alla cerimonia ha visto la prima fila con cui appunto sono stati messi in contatto questi turisti animarsi prendere si sono alzati hanno scherzato hanno riso e non sembrava esserci una un tentativo di prendere l'attenzione è stato comunque molto divertente e personalmente mi ha colpito pensare che persone di quel genere che erano lì in vacanza in luna di miele o simili ha avuto un'occasione così spettacolare mi è dispiaciuto vedere che questa cosa non è stata apprezzata anche dai commentatori italiani io ho seguito la diretta su su Otto il canale dove è stata trasmessa in diretta ma sinceramente penso che questa cerimonia abbia anche recuperato un po' dello sbalto che si era perso l'anno scorso con Chris Rock abbiamo visto anche vincere come documentario il documentario su O.J. Simpson che dura 8 ore è un record per un documentario che parla di una storia americana che non è una di quelle storie che gli americani tendono a esaltare anzi è una di quelle di quelle vicende giuridiche politiche che si tende a nascondere perché tuttora non è chiaro è un film del genere che vince con il miglior documentario è un segno forte verso quello che l'America vuole fare con se stessa indipendentemente da quella che è la classe politica che comanda il premio è stato dedicato in questo contesto alle vittime della violenza della polizia un argomento che era ancora caldo quando era in uscita il presidente Obama e che continua ad essere caldo perché adesso abbiamo la polizia che sta rastrellando gli immigrati sotto ordine di Trump e ancora abbiamo abbiamo avuto momenti divertenti anche da da attori non presenti alla lettura dei tweet con Robert De Niro Emma Stone Ryan Gosling Samuel L. Jackson è una cerimonia che se avete la possibilità di recuperare se non l'avete seguita guardarla fa farebbe bene è divertente comunque ancora magari adesso si parla di magari adesso ecco non si parla più di qual è l'importanza degli Oscar prima della cerimonia degli Oscar c'è sempre un sacco da parlare su ma questo premio non è più così importante ma gli Oscar alla fine non valgono niente sono dei premi dati tanto per darli gli americani che se la credono però poi quando vengono consegnati oggettivamente nessuno dice più tanto perché ogni volta che avvengono le premiazioni degli Oscar gli Oscar stessi ci ricordano di un'importanza in questa cerimonia è stata sottolineata la centralità dell'evento degli Oscar a Hollywood trasmettendo prima dei premi più importanti le montaggi dei vincitori passati anche di quando la televisione era ancora bianco e nero chi può negare davanti a certe prove storiche l'importanza di questi premi poi oggettivamente ogni premio ha un'importanza oggettiva e una soggettiva quella oggettiva appunto è il fatto che gli Oscar sono dei premi molto ambiti in ambito cinematografico quella soggettiva è il valore che una persona può dare a questa duetta il valore che per esempio gli da un gli da un Leonardo DiCaprio alla sua prima vittoria dopo tante sconfitte è diversa da quella che invece può dargli può dargli un così su due piedi può dargli a una Meryl Streep che effettivamente ha vinto tanti Oscar e quest'anno era candidata per una parte più comedi che era forse l'unica che effettivamente non aveva tante possibilità di vincere questo premio ancora abbiamo sì abbiamo avuto anche battute sul meccanismo degli Oscar c'è stata una parentesi divertente tra Matt Damon e Jimmy Kimmel riguardante l'orchestra appunto che suona quando un discorso come ho detto prima quando un discorso si prolunga troppo un po' di autoironia che c'è sempre agli Oscar c'è stato anche un ricordare le polemiche degli anni passati le polemiche della Hollywood razzista riguardante appunto la mancanza di nomination a attori registi e artisti appunto di colore che quest'anno è stata capovolta perché abbiamo visto la rimonta del per così dire della parte afroamericana di Hollywood con Viola Davis che vince miglior attrice non protagonista abbiamo Moonlight che porta a casa sia il premio come miglior film che come miglior attore non protagonista abbiamo un diciamo un premio Oscar che ci ricorda cosa significa essere un premio internazionale e che ricorda come volendo citare il discorso fatto dal premio Oscar per il trucco di Suicide Squad premio Oscar italiano ci ricorda come l'arte non abbia confini non abbia differenze è sempre arte i film vengono fatti da tutti per tutti non ci sono non ci sono barriere è stato ricordato come attori hollywoodiani attuali che lavorano che hanno successo sono messicani sono di origine africana sono non per forza di colore ma sono di tante diverse provenienze detto questo fatemi sapere qual è il premio che vi ha deluso di più io sinceramente se posso dirvelo non ho non ho condiviso tutti i premi tutti i premi ricevuti da Axel Ridge mentre sono assolutamente contento della vittoria di per esempio i migliori costumi di Animali Fantasie dove trovarli Axel Ridge anche è stato il montaggio sonoro ha rotto un record perché colui che ha appunto detto al montaggio sonoro aveva avuto 21 nomination all'Oscar in passato e con questo film arriva la sua prima vittoria è un record di cui si è parlato tra l'altro durante il Red Carpet è una vittoria tanto ambita però sinceramente questo film non è riuscito secondo me ad arrivare ai livelli artistici dei suoi concorrenti ha vinto anche il premio per il montaggio sonoro ditemi secondo voi quali sono nei commenti i film che meritavano più attenzione i film che non hanno avuto troppa motivatemi le vostre risposte e chissà che magari non possa non possa nascere una bella conversazione un bel confronto buon proseguimento buon divertimento e viva il cinema ciao ciao